Scusi signore, sono la nuova maestra Giulia Tedeschi. Ma che fate? Partite pure voi con tutte le altre maestre? No, ma le altre maestre sono state mandate, io ho scelto di venire qui. Piacere, Ciccio Italia, detto un poeta. Qui si studia per passione, mica perché sembra qualcosa. Ma cosa sta dicendo, scusi? Che dico, la verità dico. Qui siamo noi, giù in Calabria, e qui su c'è la Lombardia, dove sono nata io in una città che si chiama Como. Disturbo? Un po' di pane, formaggio. Magari non fumate fuori dal paese, se non pensano cose che non devono pensare. Tutti cercano un posto dove vivere, invece è importante trovarne uno bello, dove morire. Ma delle volte nella vita le cose cambiano, eh? Magari cambiassero, magari. Forza, forza! Cosa state facendo? Ma chi vi ha detto di alzarvi? No, è che stiamo costruendo una strada per la marina, allora sono venuto a darci una mano. Ma giusto oggi, poi domani tornano in classe. No, io preferisco che tornino oggi. Ma che vi è saltato in testa? Non avete nessuna autorizzazione per poter costruire una strada. Figlioli, c'è una sorpresa! Guardate che bella, ci siamo tutti. C'è, non si fanno strati, capisci? Poeta, un bordiero spavolante. Monte Lucenti, la terra dei poeti. Per me è la terra degli ultimi. Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Uscirà il 21 novembre nelle sale italiane a Spromonte, la terra degli ultimi. A presentarlo qui i nostri cari ospiti, Mimmo Calopresti, il regista. Benvenuto, Mimmo. Grazie. E per la prima volta Marcello Fonte. Benvenuto, Marcello. Eh, eh, benvenuto Marcello. Benvenuto Marcello, benvenuto Marcello. Insomma, mi sa che la prima volta, non vorrei, però mi sa che, ma a memoria, vado a memoria, ne abbiamo ospitati moltissimi di attori, ma mi sa che è la prima volta che ospitiamo una Palma d'Oro a Cannes. Quindi, insomma, per noi è un grandissimo onore averti qui oggi. Palma d'Oro a Cannes nel 2018 con il documento di Carrone. Eh sì. Be' ricordi, eh? Eh sì. Però noi andiamo avanti, cioè, la vita va avanti. Sì, avremo altri Palma d'Oro. L'obiettivo è la seconda Palma d'Oro, non guardiamo indietro. Parliamo un po' di questo film che io ho visto, è veramente molto bello. Allora, chi me lo racconta? Ovviamente il regista, direi. Lo racconto io. Raccontami un po' la storia del contesto e poi ho un bel po' di domande da farti. Vorrebbe raccontarlo anche Marcello, che è quel film lì. O poeta. Per qualche ragione. È il poeta, è il poeta del film. È un film che racconta la storia vera, non per certi aspetti, avvenuto negli anni 50, di questa popolazione perduta, no? Perché stare sulla Spromonte negli anni 50 era come stare sulla Luna, era la stessa cosa. Quindi sono delle persone che hanno bisogno di tutto, no? Hanno bisogno della scuola, hanno bisogno del medico, hanno bisogno di questo, di quell'altro. E allora non sanno come fare, devono muoversi. E quindi decidono di farsi una strada, di avere una strada per far questo. Entra in questo sogno, no? Di poter stare con gli altri al mondo. Di entrare in rapporto con gli altri. E quindi è il racconto di questa costruzione, di questa strada, di questa voglia, di queste persone di esistere. No? Di non essere gli ultimi, no? Ma gli ultimi non perché sono i più sfigati, dico io. Ma gli ultimi perché sono lontani, no? Ma forse, come dire, hanno molto, molto da dare agli altri. Quindi entrano in collegamento con gli altri. Quindi è questa storia qui, di questa strada, di questa popolazione. Perché l'idea che mi sono fatto io è che questo sia anche forse un po' un western di frontiera, se vogliamo, un po', no? All'italiana, se vogliamo, un western. Sì, c'è proprio il western. C'è la lande desolate, no? Del western. Poi c'è lo straniero che arriva, in questo caso, Valeria Bruni Tedeschi, no? Che fa la maestra. E che invece, come dire, di essere povera e disgraziata, invece è ricca, no? Rispetto a quel posto lì, ha la ricchezza anche della cultura, no? Che può portare agli altri. E quindi c'è il fatto che, come dire, c'hai in scena la possibilità di riscatto, no? C'è bisogno di vincere, no? Perché sennò ti mettono i piedi in testa tutti, no? Quindi ti devi mettere insieme, combattere, confrontarsi, no? Allora, il western è quello, no? È la conquista della civiltà. Poi capire se questa civiltà ti serve è un problema che viene dopo. È un'Africa. No, è Africa. Africa che viene da Africa. Africa è il paese. Africa, che però andiamo pure in Africa. Certo. Facciamo un po' tutto, se vogliamo. Perché appunto il film comincia, diciamo la fine, scusa, diciamo l'inizio per non dire la fine, ovviamente. Certo. Che con l'arrivo di questa maestra, no? Che viene da Como, viene dal nord, quindi una maestra ricca, che sarebbe Valeria Bruni Tedeschi appunto, che arriva in questo paese e lo trova vuoto. Perché tutti quanti sono andati a protestare contro il prefetto, che non aveva dato la possibilità a questo popolo di avere neanche un medico. Neanche un medico. Perché parliamo di un paese nel 1950, in cui la gente muore per un parto. Assolutamente. Cioè siamo ancora a quel livello. Siamo a quel livello lì, però poi pensaci bene oggi il problema di avere dei diritti. Continua a essere un problema di tutti, non so come dire. Ti giri, dice è finita, no? Adesso le persone hanno una strada in quei posti lì. No, continuano a avere bisogno di una strada. Oppure è come dire, c'è la tua sanità, come ti serve nella vita? No. Cioè, quindi voglio dire, il problema dei diritti poi, no? Ce l'ho negli anni 50, ma continuiamo ad averlo tutti oggi anche, no? Perché gli ultimi sono quelli che non hanno la possibilità di avere un'opportunità, dico io. Ci sono delle persone, ancora oggi, allora, ma da sempre, quando è nato l'uomo, c'è qualcuno che non ha l'opportunità, la possibilità di scegliere, no? E si fa di tutto per provare ad ottenerla, giusto? Tra l'altro in questo film c'è anche molto orgoglio, giusto Marcello? Perché? C'è l'orgoglio, cosa? Orgoglio, giusto Marcello? No, nel senso, per farti entrare nella discussione del film, ovviamente. Perché ad esempio il tuo personaggio, invece... Non va a protestare, è l'unico che rimane lì. E accoglie questa maestra, che se no non c'era nessuno veramente. Esatto, quindi meno male che c'eri tu, se no questa giusta andava. E poi diceva, vabbè tanto, o gli chiedi diritti, non gli chiedi diritti, non me danno niente uguale. Esatto. Quindi è inutile che vado là, faccia fatica ad andare lì, che poi già so la risposta qual è. Certo. È come oggi, no? C'è un po', meglio fare un'altra strada. Però... C'è una più... più da testa, va, più sognatrice, ecco. Esatto, infatti il tuo personaggio... Meglio sognare. Infatti il tuo personaggio, rispetto agli altri che abitano questo paese, è un personaggio che appunto usa molto più la testa. È l'unico che sa scrivere e leggere, tra l'altro, mi pare di aver capito. È uno che... sì. C'è qualcun altro che sa scrivere e leggere. Sì, però tu sei quello che sai meglio. Non con la maestra, esclusa, ovviamente. Sì, è libero, se non è stato... E adesso, soprattutto, sei colui che cerca di inviare, di... come posso dire, di invogliare i bambini ad andare a scuola, mentre ci sono gli altri adulti che cercano di portarli a costruire la strada, quindi comunque a lavorare... Lui è molto concreto. Io gli dice, cioè, allora, a fatica sai qual è? Dici, o studi, oppure fighi a zappi e zappi. Esatto. Capito? Non vuoi studiare? Allora vai, zappa. Cioè, che non è che non ti impara niente il fatto di zappare, perché zappare è una cultura. Bisogna imparare anche quello. Sì. Lo sai, come l'ignoranza te rovina. Tra l'altro, poi, il tuo Ciccio Italia è un personaggio che, rispetto agli altri, non è poi così dispiaciuto. Cioè, cerca ovviamente di migliorare anche la sua diesistenza, però comunque si trova a suo agio nell'ambiente in cui vivi, ovviamente, no? Perché tu lui dice, giustamente con un bambino che gli chiedeva, ma cos'ha di speciale questo posto? Dice, guarda, ci sta il mare, ci sta la montagna, c'è l'ambiente, c'è la natura, e dice, come dice... Ma lui ride degli altri un po' anche, perché dici, guarda questo, si ammazzano, fanno la strada, e cose... E quando finiscono la strada? Mai! Il tempo di finire la strada, già sono morti. Cioè, invece di pensare, magari, di vedere quello che hai, di godere di quello che hai, e valorizzarlo, ti ammazzo a fare una cosa che poi ti porta via e basta. Da lì. E poi dice anche una frase molto bella, che appunto, senza che adesso diciamo troppo, però mi pare anche nel trailer, se non ricordo male, e la gente si affanna a cercare un posto bello dove vivere, e in realtà poi... E' bello trovare un posto bello dove morire, no? In mezzo alla bellezza, dice. Eh, basta scherzare. L'uomo rovina solo, e basta. Dove ha messo mano l'uomo? Ha rovinato. Ha fatto solo danni. E bastava solo stare fermi e potessi la natura. Quindi la pezzina aveva come ciccio, quindi, diciamo. Bastava solo che ti stavi fermo. Meno fai e meglio era. Senti, Mimmo, ma in realtà nel cast ci sono anche altri attori molto importanti, straordinari, ovviamente. Tra gli altri ci sta anche Sergio Rubini, che fa un po' la parte del cattivo, giusto? Sì, sì, un cattivo. Sì, un vero cattivo. Sergio, lui ha un grande carisma come attore, no? Quindi ha la capacità di presentarsi, essere quello che immediatamente mette tutto l'ordine, no? Intorno a sé. Lui c'ha il potere del fucile, sai, dentro il film, quindi voglio dire... Che lascia la gente immobile. Sì. E questo, sai, è uno degli insegnamenti di questo film, no? Per quanto valgono le parole, quanto valgono le armi, eccetera, no? E quindi qualche volta, appunto, le armi... I bambini ci credono pure, certe volte, eh? I bambini... Pensano che è giusto così. Lo subiscono. E tutti noi poi subiamo, no? Basta uno sguardo per capire chi c'è il potere o no, no? E quindi, come dire, da questo punto di vista lui deve fare una prova d'attore forte, no? Perché parla poco e c'è poco. Quello che c'è, come dire, è fondamentale dentro il film. Intensivo. Allora Sergio diceva l'altro giorno, in conferenza stampa, diceva... Ma posso fare i rumori dei cattivi e mi piacciono perché io nella vita sono una persona buona, detto. Quindi, come dire, il mestiere ti permette di andare al di là. Però la forza di Sergio, secondo me, è il suo grande carisma. È un grande carisma, è vero. Senti, ma esistono ancora delle realtà così nell'Italia di oggi? Guarda, io dico di sì. Magari non a questi livelli, ma... No, io dico a questi livelli, a questi livelli è molto difficile. Ci sono, ci sono nei paesini... Guarda, quando giravamo lì, in quel momento lì, sull'Aspromonte, ci succedeva una cosa incredibile. C'erano le maestre dei paesini con le scuolette dell'Aspromonte che facevano sciopero perché li toglievano le scuole che c'erano pochi studenti, no? Quindi poi le mettevano insieme, insomma, dovevano viaggiare. Un problema enorme. Scioperavano, facevano grandi... Lottavano per questa cosa qui, per avere dei bambini... Per riempire le aule. Per riempire le aule. Nello stesso momento, in basso, praticamente, quasi a Reggio Calabria, laggiù, c'è un altro gruppo di calabresi che voleva impedire a dei bambini, a delle famiglie di entrare, che sarebbero state quelle che avrebbero popolato quelle scuole. Assurdo. Questa è la foria degli uomini, no? Cioè, mentre c'è un problema da risolvere, che è riempire le scuole, riempire i paesi, eccetera, c'è qualcun altro come te... Ma a Riace è andata, però, eh? Avano ripopolato... A Riace va, funzionato questo, no? La persona anziana aveva un accolto volentieri di tante persone, infatti si era ripopolato. Poi, Mimmo Lucano, insomma, hanno tante cose, alcuni gli dà fastidio, certe cose, non si sa perché. Viviamo in tempi abbastanza complicati, diciamo. Vedono le persone come nemici, come una cosa... forse è quello che non si conosce, che fa paura. A proposito di questo tema, mi andava ad aprire un'altra parentesi. La paura di quello che non si conosce, la paura delle notizie false, delle fake news, no? Parliamo, nel tuo film, la cultura è importante, giusto? Perché aiuta la gente ad aprire la testa, a viaggiare anche, no? Anche ai ragazzi che non possono permetterselo. Quanto, invece, ai giorni nostri sono pericolosi i social network e tutta questa informazione che passa attraverso questi mezzi. Allora, io dico che non siamo preparati a questa novità, a questa rivoluzione in atto. Cioè, la nostra vita oggi è dentro i nostri telefonini, dentro i nostri social, eccetera. E va bene così, perché non è che noi possiamo impedire questa cosa qua. Però cosa manca? Manca l'educazione a tutto questo, no? Allora, io vorrei che mia figlia, che ha dieci anni, è come dire, che oggi tutta la sua informazione, tutta la sua vita, la vita dei suoi compagnucci, eccetera, così passa attraverso il telefonino, sia in grado, e le si è insegnato, che cos'è quella comunicazione lì? Lo strumento qual è? Li si è insegnato. È come... Allora, questa cosa qui può cambiare. Bisogna sapere utilizzare. È come il calo di cembre, il pianoforte, quando c'era, quando hanno inventato il pianoforte, tutti quelli che suonavano, il calo di cembre, dicono, ah, il pianoforte, ma il calo di cembre, lo strumento per cellezza. Allora, poi, Beethoven, il pianoforte, ci ha fatto quello che ci ha fatto. I ragazzi che sono nati oggi hanno quella strumentazione. Quindi bisogna responsabilizzare i ragazzi che, all'uso dello strumento, se per lei si riconosce... Io ho una fake news, la riconosco subito. Non è che c'ho bisogno di grandi analisi, di analisi... Qui c'entra in gioco la cultura, come dicevi... Se non ha linguaggio, non ha linguaggio. È mia figlia che non la riconosce. Cioè che ha bisogno di capire come fare a riconoscerla al volo. Cioè è mia figlia che ha bisogno di essere educata a come si sta nella vita, perché la nostra vita è lì oggi, non è che ci giriamo intorno. E lì sono tutti i meccanismi della società, appunto... Però io credo molto nel futuro. Io penso che siamo noi che siamo più arretrati su sta cosa, invece già loro sono più avanti di noi e credo che troveranno la maniera giusta a loro. Quindi dici che serve tempo? Ci serve tempo per capire meglio lo strumento? Mettiamo delle cose nostre in testa. È come l'uso del telefono, no? Se tu adesso gli dai l'uso del telefono è una cosa vecchia. La manovella, la cosa che dice... Ma che è sta roba? Come si usa? Come si fa? Sì, sì. E cambiare all'era, a distanza di vent'anni cambia, trent'anni cambia tutto. È normale che tu nasci in quella tecnologia e che quella tecnologia diventa tua. Noi loro già, quelli di ora, hanno il rossicino cambiato qua. Il fatto del mouse, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Io non dico, le prime cose, per dire una cosa, già l'ossicino qua è diverso da quello, perché già il mouse, le cose, 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 è già diverso come usi il pollice, rispetto a... Ah, no, te ne ho impariti, già per fare un coso che viene, capito? È una roba che noi, siamo prima, quelle che nascono in questa tecnologia, secondo me bisogna essere ampiamente responsabilizzare all'uso del microfono. Tu puoi dare un microfono a un ignorante, puoi dare un microfono a uno che dice cose sane. Dipende dalla cultura che hai, la cultura. Esatto, esatto, infatti quello è fondamentale, quello che dice anche il tuo personaggio. Non basta per il microfono in mano. Certo, certo, assolutamente. Facci la testa, no? Eh, a resta giusta ci vuole. Lo strumento poi, userà lo strumento che hai a disposizione. Facevano le piramide, costruivano con degli strumenti, cioè, che dice come cavolo facevano, visto che appa... le piramide, cioè, mo' c'è il gru, c'è le cose e crollano i ponti. Senti, Marcello... Dipende da tante cose. Marcello, tu a Roma sei arrivato nel 99, giusto? Più o meno. Sono arrivato, sì. Nel 99. Lo sai, sei formato. Non formato, è un po' pervanzo. È bravo, bravo. Tu sei, Nativo, cioè, tu sei calabrese, giusto? Perfetto. Quanto questa tua esperienza, questa tua vita prima di arrivare a Roma, ti è stata utile per il personaggio che poi hai interpretato in questo film? Tutta. Tutta, tutta. Tutto il percorso che hai fatto? Tutta, ogni giorno. Ogni giorno mi ha portato qui. Cioè, sì, ogni giorno dopo... Perfetto. Il dono della sintesi, ma è perfetta come risposta. Mi sembra assolutamente perfetta. Tutti. E invece, volevo chiedere a Mimmo, insomma, questo cast importante che tu hai diretto, ci sono stati dei momenti in cui l'hai dovuto instradare oppure, voglio dire, ormai, visto anche il loro spessore, l'hai dovuto ogni tanto frenare oppure è andato tutto liscio? No, non è andato liscio perché loro sono dei grandi professionisti, questi attori qua. sono capaci, come dire, ad essere creativi? Perché la cosa importante è un cast che è molto creativo. Questo mi piace, no? Non ho un attore che viene e dice adesso fai di me quello che vuoi. Non siamo lì, siamo da un'altra parte. Siamo di persone che sanno quello che vogliono fare, eccetera. Quindi per me diventa una bella sfida giocare questo momento creativo. E quindi è andato liscio. C'era un problema su questo film era il rapporto con i bambini, che è sempre molto difficile. Molto difficile, ma ho avuto la fortuna di aver Marcello che si è innamorato di questi bambini. I bambini si sono innamorati di lui. Si sono proprio cresciuti nel... Si notava, anche poco si vedeva nel film. E alla fine, per dirti appunto, io dico sempre, Marcello ha finito una settimana prima degli altri, ma ha chiesto di rimanere sul film e ha continuato questo lavoro con i bambini, no? Allora, ecco che lì c'è, come dire, l'idea di come si lavora, no? Perché poi il cinema è un lavoro, devi stare dentro le cose. Fellino diceva, no? E poi tu pensa appunto... Quando si crea un'emozione non bisogna interromperla, comunque serviva a dare, no? Coraggio, era la mia esperienza. Coraggio, che ci vuole coraggio per fare le cose. Magari la pensassero tutti così. Tu poi pensi che io, per esempio, quando faccio un film, c'è dei momenti in cui cambio di idea sulle cose, loro lo sanno, improvvisamente. C'era adesso Sergio Rubini, che era arrivato per, perché dovevo fare la scena il giorno dopo, c'era in televisione Fellini, che passava, c'era tipo, non so, uno degli anniversari della morte, credo, e Sergio che ha fatto un film con Fellini importante, si chiama l'intervista dove lui faceva Fellini praticamente, mi ha detto, vedi Mimmo, questo, quest'uomo è stato dimenticato. Ho detto, perché? No, dice, sai poi, alla fine è così importante quello che è stato. Allora, il giorno dopo ho cambiato scena, ho fatto la scena del... Mentre se mangiamo una fetta da pane con l'olio... Ho fatto la scena del circo, perché era un omaggio a Fellini, il circo sull'Aspromonte, e la sera tutti si sono messi a lavorare a cambiare sta scena. Tutti impazziti, dicono, no, che dobbiamo fare, noi sappiamo, vediamo, non hanno... E poi l'improvvisazione... Che serve? Vabbè, poi, io sacco di lui, d'accordo? No, io so che avevo a che fare con delle persone come loro, capaci, improvvisamente, di darmi quella cosa lì, no? Infatti, nessuno sapeva niente. Ha costruito il circo, l'abbiamo fatto il giorno dopo, tutto bene. Ma è per questo che tu, ho letto, poi di Mise è vera questa cosa, che tu hai detto che Marcello sarebbe un ottimo regista. È un ottimo regista, già, perché lui ha già fatto un film che si chiama La Sinogola, ed è, secondo me, un talento, adesso non perché qua, insieme a me in questo momento, ha un gran talento anche come regista, ma anche come scrittura, ho letto delle cose che ha scritto lui, che tu scrivi tantissimo, tra l'altro. Eh, io scrivo vivendo, molto. Cioè, vivo, mentre che vivo, mi rendo conto di quello che faccio, e quindi è come scriverlo. Quindi ho una coscienza su di me e su quello che... Scrivi con le immagini, no, tu, perché lui riprende tutto quello che fa. Sì, mi piace le immagini e poi, cioè, sono bravissimo a dattilografare, capito? Sì. Però, quando mi dice me, mi piace più che tanto tempo, poi mi faccio vedere dai miei amici, comunque abbiamo scritto con... Infatti scrive pure nel film. Sì, scrive sempre. Scrive un libro anche questo. Ma poi pensi a una cosa, che io, adesso mi fai riflettere, è questo casting, qui c'è Valeria Bruniteschi che ha fatto regia di film. Sergio, regia. Tu, regia. Sì, sì. Cioè, quindi voglio dire, questa cosa qui... Team working, insomma, tra... No, io entro nell'ottica, nel senso, cerco di aiutare la regia. Capisci cosa prova lui, quindi diciamo... Cerco di non creare problemi, ma allevarli. Cioè, quando ragiono anche col fatto di... Sono dentro il pensiero del regista, nel senso che capisco l'idea che c'ha, la problematica, perché delle cose, no? Quindi eviti tutta la discussione inutile, che poi te lo spiego, perché allora non c'è... Già entro nell'ottica e quindi cerco di aiutare. Ho capito. Tutto molto chiaro. Nel proprio mestiere, no? Allora, chiudiamo questa parentesi cinematografica per averne un'altra un po' più leggera e sportiva, se vogliamo. Allora, dunque... Torino. Torino. Tu sei un tifoso del Torino. Sì. Da sempre. Da quando mi sono entristito a Torino, da piccolino, ho sempre tifato Toro, insieme a mio zio, che era una prima emigrazione calabrese, su Torino, che conosceva tutti i giocatori del Toro, perché faceva il sarto lui, il tipico sarto calabrese, così, con i giocatori del Toro. Allora, e poi abitavo su questa piazza Vittorio, dove era arrivato Gigi Meroni. No, allora viveva in soffitta, era strano. No, noi ragazzini andavamo su a farci fare gli autografi, a suonargli la porta, sai, delle cose così. Quindi ho vissuto questo Torino così, molto... così da vicino, se vuoi. Però un Torino da curva, ecco. Mi ha portato in curva, perché le vere partite si vivono lì. e tutto il resto, adesso, adesso io con mia figlia, sono andato al derby a Torino, ho portato al derby mia figlia, mia nipote, mia nipote, eccetera, e sono andato in tribuna, no? A vedere il Toro. Però anche mia figlia mi dice sempre, ma quando è che mi porti papà con gli Ultras? Ah, pure lei quindi ha uno spirito di Ultras dentro, quindi già. Sì, sì, sì. Ma sai, perché poi la partita è bella vederla in quella maniera lì, no? Perché voglio dire... Che è un film la partita, poi, la fine. Sì, se no te la interlittalizzi troppo, no? Secondo me invece è, come dire, una visione più di pancia, no? Che stai insieme lì, qui sei anche esagerato nei tuoi modi di fare, eccetera. Tra l'altro poi questa tua passione che hai per il calcio l'hai messa pure nel film, perché i bambini nella loro estrema povertà, nella quale vivono, giocano a pallone. Ci sono delle scene in cui hanno sempre la palla in mano. Metto sempre una scena in un film di calcio io, perché penso che sia... Ma io per recuperare qualcosa che ho fatto nella vita, cioè quando c'avevo 5-6 anni, giocavo per strada a piedi nudi, a Polista, dove sono nato in mezzo alla strada, insieme ai gemelli soraci, che poi sono stati a giocare nella regina, per dirti. E così, il calcio è quella cosa lì, ancora per me, ancora quella cosa lì. È una cosa di strada, diciamo. Sì, oggi questi... Anche se i valori ci sono un po' persi adesso. Sì. Vabbè, oggi non c'è più la fame, diceva Libri. No, la fame non c'è proprio... Diceva Libri non c'è più la fame, manca la fame... Ma infatti i ragazzi... Ai giocatori, manca la fame. Sono troppo ricchi. Adesso, esatto. Troppo sazzi. Ci sono troppi soldi. Troppi soldi. A 18 anni già sono ultramiliardari, quindi... Al di là. E poi sono il sogno di tutti, capito? Noi i ragazzini del film, quando li abbiamo incontrati, questi ragazzi avevano i capelli tagliati come i calciatori. Io loro gli ho detto, guardate, per fargliare in 50 i capelli, o li fate crescere, o ve li taglio a zero. Lui non volevano fare il film, perché quello è l'unico modo che pensano che uno è un figo. Capito? Oggi un calciatore è il vero figo della situazione. Tutti vogliono... Perché bagna soldi, perché c'è tutto, perché è idolatrato da tutti, no? C'è stato anche però chi ha contestato, un giocatore che ha interrotto una partita per i burazzisti. Quello è un altro capitolo, se vogliamo, terribile. Terribile, terribile. Terribile, terribile. Se negli stati il razzismo esiste, io poi quando vado a vedere le partite, da sempre, quindi c'è questa cosa di un razzismo. Balotelli è un italiano a tutti gli effetti e non c'è niente da fare. Gioca per la nazionale, parla in bresciano stretto quando lo senti parlare, no? Ti puoi essere antipatico per mille cose, perché... Ma non si può dire che non sia italiano. Non puoi dirlo. Cioè è inutile stare a girare al cento... Anzi, proprio quel suo modo di essere antipatico è molto italiano, dico io. Quindi voglio dire, Vabbè, esistono pure le squadre più popolari. Invece mi vuoi raccontare la tua passione? La mia squadra, io ti vivo per l'Atletico San Lorenzo, che è una squadra di quartiere popolare dove si svolgono tantissime attività. Io sono proprio fiero, perché l'ho vista crescere, l'ho vista proprio nascere a San Lorenzo. C'è il calcio maschile, il calcio femminile, i pulcini, c'è stato il basket, c'è stato la pallavolo, la tifoseria dell'Atletico, c'è tutta la tifoseria. Presidente è sempre presente, che lo tengo il nostro Presidente, Francesco Vanuccio. Quindi ti vai a vedere tutte le partite? Eh, ci andavo sì. Quando puoi, ovviamente. Però ce l'ho nel cuore, me lo tengo nel cuore. Sei un po' più impegnato, diciamo adesso. E mi hanno regalato in cambio questa maglia fantastica. Adesso, l'hai fatta adesso quest'anno, sì? No, questa è buona. Eh, la devi fare, Mimmo. Mi tessero come tifoso del San Lorenzo. Eh, dai. Senti, ma è vera questa storia che gira, che stai preparando un altro film con Valeria Bruni tedesca e Cate Blanchett? No, sai, sono andato, guarda. Non ti aveva detto niente. Ti dico com'è andata, eh. Perché Valeria se l'è cantata. Sono stati in Australia col film. In mezzo ai nostri, ai nostri immigrati, tutti i calabresi. C'era gente che usciva di casa dopo anni per andare a vedere il film. E sai che è un paese bellissimo. E i nostri immigrati lì sono veramente persone che ti fanno, che hanno una passione per l'Italia incredibile. Quelli amano l'Italia più di noi. Cioè, noi, a me mi hanno commosso per come parlavano l'Italia, come guardavano il film. Una purezza nello sguardo che noi siamo bella che persi. Lì, appunto, c'è un cinema molto importante in Australia che Blanchett sicuramente è una grande, che è una grande attrice, c'è proprio da fare. E quindi non ci sbottoniamo ma. E chi sta. Non ci sbottoniamo ma. Invece, mi piaceva concludere questa intervista con una domanda a Marcello. E ci abbiamo tutti quanti noi, insomma, ci siamo tutti inorgogliti anche per te, no? Per quelle immagini dell'anno scorso a Cannes, giusto? È giusto guardare al futuro, però è anche quella, è una serata che resterà per sempre. Il tuo cuore è nel cuore di tutti noi italiani. E' facile dire quanto ti è cambiata la vita, la vita ovviamente ti è cambiata dopo quella sera, ma in cosa ti è cambiata? Cioè nel senso a te, mi sembra che comunque tu come personale sei sempre rimasta più o meno la stessa, giusto? Sono cambiato i tuoi impegni, diciamo, però alla fine, sai perché ci sanno, gli attori che vincono queste grandi cose e dicono da un giorno all'altro non ti rispondo più a telefono. Vabbè, ma quello capita perché pure, cioè non è che uno può rispondere a tutto, nel senso il fisico quello è, cioè non è che gliela fai, l'importante è che tu fai una cosa fatta bene, non ti importa chi sei, da dove vieni, cosa fai, cosa non fai, di chi sei figlio, di chi sei non figlio, di chi sei raccomandazione, quello e quell'altro, ma se io l'ho fatta io, la puoi fare pure in arco, capito? che ti voglio dire, se fai quello che devi fare e lo fai bene, non importa, né chi si, né chi non si, il risultato è importante, ci vuole pure il risultato nella vita, no? Quello è il messaggio. Ma i tuoi maestri, i tuoi maestri sono rimasti sempre gli stessi, a proposito di istruzione di maestri nel film. I miei maestri sono sempre stati, maestri che mi hanno portato a questo, ho sempre avuto maestri che, ho preso sempre da, ho rubato sempre da tutti quanti, quel rubare, quel vedere, quel osservare, quel capire qual è la strada giusta, ti porta poi a accogliere quello che ci vuole per adoperarti a fare, è come se tu vedi, un sacco di volte, come si fa un muro, come si fa una cosa, vabbè in questo caso è come si fa un muro, meglio che la bai. Come si fa una strada, diciamo. Come si fa una strada, del meglio. E allora a un certo punto, vedendo, nel momento in cui inizi a farla, capisci proprio concretamente, qual è la problematica, è un conto che lo vedi, è un conto che cominci a farlo, e allora lì ti rendi conto di quello che ti dicevano. Perché? Quell'umiltà di imparare, che uno deve sempre avere. Quello la deve avere sempre, perché se no se pensi già di sapere, ti dai la zappa sui piedi. No, no, Marcello fa tutto bene, perché smette lì, si applica, come dicevo. No, ma lo scherzo. Cerco di dire, ogni mestiere ha il segreto suo, c'è un segreto secondo me, nel mestiere, e tu devi capire quel segreto qual è, in ogni mestiere, anche nel tuo adesso, c'è un mestiere, il segreto del tuo mestiere, capito? Io cerco di capire quello, ti sto a rubare quello, mentre che parlo con te. Quindi la prossima volta, ti sto a rubare, sarà lui a fare l'interesse. Capito? Il segreto tuo, qual è? Dimelo pure a me, perché io non lo so tanto. C'è, c'è. Capito? Ogni mestiere ha un suo segreto, allora il maestro più grande, te lo dà, senza dirtelo, e tu lo cogli senza sapere, facendo finta di non saperlo. Beh, io vi ringrazio di essere stati, i nostri ospiti, è stato veramente un piacere, insomma un onore, ospitarvi qui, e insomma speriamo di vederci presto. Intanto diamo l'appuntamento, nei cinema italiani, dal 21 novembre, con Aspromonte, la terra degli ultimi. Grazie ancora, e a presto, un saluto a te, ciao, 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 ciao,